Salve, buongiorno, sono Donino Vescio, il Presidente dell'Associazione NERS. Oggi è una giornata importante perché abbiamo i dirigenti della Regione Calabria che vengono a trovarci. Con ciò facciamo sia l'inaugurazione della sede dove è strutturata la sede operativa dei NERS e in più facciamo anche il convegno per quanto riguarda il discorso delle aree interne di protezione civile. Ci saranno anche i sindaci del Reventino e Savuto e quindi ci sarà anche qualche dibattito. Innanzitutto ringrazio il Sindaco del Comune di Soveria Mannelli che ci ha ospitato per poterci aiutare e in più dare anche una sede per ricoverare i nostri mezzi, attrezzature e quant'altro. Un grosso ringraziamento anche ai nostri volontari che tutti i giorni del suo poco tempo che hanno però dedicano tantissimo all'Associazione, quindi sia per la manutenzione e sia per quanto riguarda i vari interventi che vengono fatti. Grazie. Grazie. Grazie.